Siamo qui con Simone Turchotto, CGL. Qual è la strada adesso per i lavoratori? La strada che chiamiamo noi all'azienda è quella di attivare, nel caso della chiusura del punto 20 di Milanova, una cassa integrazione straordinaria che vada a coprire i ragazzi per un periodo più lungo di quello che sarebbe la sua mobilità. Di modo a modo di dare loro la possibilità in questo periodo di potersi ricollocare e di avere anche una margine retributiva che gli consenta di poter andare avanti, perché ci troviamo con un'azienda che dall'oggi al domani ci ha detto che chiuderà questi locali e non possiamo permetterci di lasciare la gente metta alla strada. Stiamo parlando di 16 persone, perché sono 4 legate ai trasporti, 3 partite IVA e 9 lavoratori di cui l'azienda si deve fare carico e non può ignorare o fare come oggi, che non si è presentata a un tavolo ministeriale a Roma, indicando non si sa quale ragioni e a modo di prendere tempo e riuscire a fregare i lavoratori.